buongiorno a tutti e ben ritrovati 12 e 35 minuti in questo istante lunedì 15 marzo in diretta per una nuova settimana in compagnia di good morning milano sempre qui in diretta dagli studi di milano all news per raccontarvi la città di milano e tutto quello che rende grande la nostra città come sempre apriamo guardando il livello di inquinamento in questo momento atmosferico sulla nostra città grazie a wiseri grazie ad adrianna il vaso che respira lo sapete arianna è quel vaso bianco che vedete che ha un piccolo sensore al suo interno e può registrare il livello di pm 2 e mezzo che in questo momento è davvero ottimo perché stiamo parlando di 4 microgrammi per metro cubo finalmente l'area di milano oggi è tornata più che respirabile siamo ben contenti il vento ha portato una ventata appunto di aria pulita e quindi arianna la nostra arianna ma anche le 100 e più arianne installate sui balconi e sui terrazzi della città grazie ai ragazzi di wiseri ci dà questo dato medio di 4 microgrammi per metro cubo livello del pm 2 e mezzo in questo momento alle 12 36 su milano parliamo quest'oggi di un importante questione che è quella che ha a che fare con il seveso lo sapete il seveso è uno dei fiumi più importanti di milano si dice che i romani decisero di insediarsi proprio qui di fare la loro mediolanum proprio perché attraversate dall'ambro dall'olona dal seveso da questi fiumi che portavano vita nella città ahimè con il passare del tempo il seveso ha portato anche tutt'altro e insomma sono storiche le varie esondazioni del fiume nella nostra città che continuano a portare spesso volentieri danni soprattutto nella zona nord della città però si cerca di corripare si cerca di fare delle soluzioni e finalmente sembrerebbe che qualcosa è in atto e sia una grande soluzione ne ha parlato il sindaco qualche settimana fa ma ancora meglio ce ne può parlare l'assessore alla mobilità lavori pubblici marco granelli che abbiamo in collegamento con noi buongiorno assessore buongiorno buongiorno a voi tutti e grazie per questa occasione grazie a lei perché ci dà invece l'occasione finalmente di capire per bene di cosa stiamo parlando perché insomma lo sappiamo il seveso è un grande grosso problema per la città di milano era una volta una risorsa poi insomma sempre meno diventato una risorsa di vita appunto ma anzi diventato un problema però si è cercato appunto di trovare delle soluzioni e sembrerebbe però lascio a lei poi la parola che finalmente siamo arrivati ad una soluzione ha ragione lei il seveso nella storia di milano fino al tempo dei romani anzi i romani hanno incominciato a deviarlo ad utilizzarlo pochi sanno che sotto corso europa c'erano delle terme alimentate con l'acqua del seveso che al tempo dei romani era più pulita di quella che oggi purtroppo lì l'industrializzazione e la cementificazione soprattutto della brianza ha creato grossi grossi problemi e quindi oggi abbiamo un fiume che ha un acqua inquinata e poi è irrigidimentato e quindi fuori milano diciamo a un albero stretto in milano città è tutto coperto che crea periodici problemi di esondazione noi abbiamo negli ultimi 40 anni 45 anni 116 esondazioni del seveso avvenute e quindi tra l'altro alcune anche con situazioni pericolose con danni ingenti al pub alle strutture pubbliche ma anche ai privati che hanno dovuto ripare cantine hanno avuto danni eccetera ecco non possiamo più andare avanti così devo dire che soprattutto negli anni dopo le due esondazioni del 2010 e del 2012 e ancora del 2014 che sono state diciamo le più recenti e significative si è partiti dal 2012 per un piano che è stato un piano condiviso da tutte le istituzioni che è stato poi validato da un accordo di programma sottoscritto dal governo e fino appunto alla regione città metropolitana comune aipo tutti gli enti coinvolti e per cui si è previsto un insieme di interventi che non agiscono quindi solo su un punto ma su tutto il fiume affiancato da un piano di lavoro per pulire il seveso di depurazione del seveso affidato in modo particolare a il contratto di fiume del seveso che è gestito da regione lombardia insieme con gli enti che gestiscono le acque eccellente di como della brianza e di milano quindi ha messo insieme tutto questo per un obiettivo di cercare di pulire le acque che lentamente stanno pulendo è un progetto che dobbiamo accelerare ma ha bisogno del suo tempo nell'immediato dobbiamo fare in modo però che non avvengono esondazioni e allora si è pensato di un sistema di potenziamento del canale scolmatore c'è un canale che all'altezza di paderno palazzolo devia l'acqua e poi questo canale attraversa diciamo taglia la brianza arriva passa vicino a ro e poi scende vanno lo scolmato ro lona che passa a fianco della città e poi va fino al ticino e quindi aiuta a togliere un po però questo canale spolmatore ne riceve tanto perché riceve il seveso ma anche tutta una serie di torrenti che scendono dalla brianza e poi mette nell'olona e quindi che in genere quando abbiamo le situazioni di rischio anche l'olona non è che stia sta bene sempre al limite anche lui e questo non basta per quello abbiamo identificato delle vasche cioè delle zone dove l'acqua può essere trattenuta cioè quando rischia di andare in piena cosa succede si apre questa vasca quindi l'acqua del seveso va in questa vasca e appena finita la piena dalla vasca viene ributtata nel seveso e fa il suo percorso di queste strutture ne abbiamo pensate tre una senago una milano e una più in su allentate su seveso quindi diciamo che ce n'è una più grande ancora che sarà a paderno varedo quindi diciamo quattro grandi vasche che servono messe come vedete su più punti del fiume a trattenere l'acqua nel momento di piena siccome seveso è un torrente è un fiume ma è essenzialmente un torrente pensate che all'imbocco di milano quando ci sono i temporali forti è passato da 40 centimetri che sono livello ordinario d'acqua a tre metri quando esonda nel giro di 20 minuti 25 minuti perché è questo il problema del seveso non è tanto l'ordinario ma è quando il problema del seveso è che appunto essendo diciamo non proprio intubato ma più che altro messo dentro sponde strette quasi fin dal suo principio l'acqua viene come se fosse messi proprio in un tubo accelerato in un certo senso quindi esatto un po' quell'effetto acquapark viene no cioè quell'effetto che viene con gli scivoli esatto esatto e poi si aggiunge a questo effetto che lei ha descritto molto bene il fatto che avendo cementificato tutto attorno questo dalla Brianza fino a Milano eccetera succede che se prima la pioggia che cade non solo sul seveso ma anche nei territori al lato del seveso va nella terra poi lentamente arriva al seveso perché filtra attraverso la terra se invece con tutta la cementificazione va in fognatura e va direttamente nel seveso dobbiamo pensare non solo un tubo accelerato ma tanti tubicini al lato che da qualche parte poi l'acqua deve uscire quindi se non rientra nel seveso esce nelle cantine di chi abita lì vicino verrebbe da dire però adesso devo farle però la domanda fatidica perché tu dicono appunto abbiamo cementificato tutto faccia le domande cattive no abbiamo cementificato tutto non c'era non c'è più terra per prendere il seveso e le vasche però la famosa vasca di Milano viene fatta nell'unico punto in cui c'era invece un parco com'è possibile questo perché lì? certo allora se è lavorato a lungo per individuare i punti migliori è necessario un punto anche vicino all'ingresso in città cioè c'è un punto più a nord perché abbiamo visto che dipende da dove arrivano i temporali no perché allora c'è un punto a nord uno due punti a metà ma abbiamo dovuto mettere anche un punto proprio prima dell'ingresso poco prima dell'ingresso in città nel diciamo nel tratto tombinato esatto perché noi abbiamo visto che in alcune occasioni sono state le piogge tra Paderno e Milano ad aumentare il livello quindi se noi non facessimo questa vasca vicino proprio all'imbocco rischieremmo di avere delle situazioni in cui le esondazioni potrebbero avvenire quindi è stata pensata una vasca così però si è lavorato e si è messa proprio tra l'ingresso del fiume e lo sgrigliatore cioè circa 400 metri prima dell'ingresso c'è una grande griglia che serve a proteggere il tratto dei tombini cioè che ferma la ghiaia, la terra ogni anno ci sono 1200 tonnellate di materiali che vengono tolti perché sono il materiale che il fiume porta normalmente però se quello va tutto nel tratto tombinato dopo il tratto tombinato non viene più e allora da qualche anno abbiamo fatto questa operazione abbiamo pulito tutto il tratto tombinato e poi fatto questa mega griglia quindi la vasca si metterebbe tra questa griglia, questo pettine che blocca e l'imbocco certo c'è il parco quindi mi stai dicendo che nella vasca ad esempio entrebbe comunque un'acqua filtrata, no diciamo grigliata entra dell'acqua comunque un minimo già filtrata dalle cose più grosse che potrebbero entrare sì quindi non entra ghiaia, terra, rami tronchi, rami o così esatto e poi non dobbiamo pensare a una vasca che sia sempre piena di acqua e del seveso è una vasca che normalmente quando non c'è allerta funzionerà come un laghetto di acqua di falda non pulita, acqua di falda che c'è lì e quando avviene l'esondazione, quando si rischia all'ultimo momento se necessario si apre, si riempie poi appena finita l'esondazione viene pulito e ributtato dentro questo vuol dire massimo quattro giorni ecco assessore, su questo punto molti soprattutto chi abita lì vicino è allarmato perché dice ok ma quell'acqua lì del seveso che entra nella vasca che comunque è un'acqua sporca, un'acqua che si porta dietro un po' di cose come faccio essersi con che poi in quattro giorni si ribalta tutto di nuovo e ritorna dentro e si pulisce come funziona questo meccanismo? noi abbiamo un accordo fatto tra gli enti che vi citavo prima regione, comune, città metropolitana, IPN, MM per la gestione come già funziona oggi lo sgrigliatore lì c'è un'assistenza H24 che in questo momento c'è gestendo MM, SPA, servizio idrico con personale e macchine automatiche che lavorano H24 su quello quindi noi amplieremmo quell'attività in modo da avere sempre pronto un sistema capace di intervenire è finanziato da un accordo che abbiamo già, che oggi già finanziamo per l'attività di pulizia quindi non viene lasciato, non siamo in una situazione in cui qualcuno interverrà no, sappiamo già chi, c'è già un accordo in essere, firmato e ci sono già delle risorse che ogni anno tutti questi soggetti mettono per tenere funzionalmente quindi Assessore, lei si sente di tranquillizzare tutti quelli che abitano nella zona che l'effetto palude non esisterà? no, io mi sento di tranquillizzare perché esiste già un'esperienza in atto cioè non siamo all'anno zero ma abbiamo già un'attività e su questo c'è l'impegno e c'è già un accordo e ci sono consuetudini che già oggi lo vediamo gli stessi abitanti vedono funzionare lo sgrigliatore perché è proprio lì e vedono che funziona regolarmente sempre da qualche anno proprio per questo e poi è chiaro che il parco, noi abbiamo fatto anche un lavoro col parco nord cioè questa vasca appunto quando non c'è l'esondazione sarà un lago ma in ogni caso noi abbiamo nel progetto acquisito al parco delle aree 109 mila metri quadri grandi tre volte la vasca la vasca è di circa 36 mila metri quadri 37 mila l'occupazione quindi contestualmente il parco acquisisce delle aree grandi tre volte la vasca e quindi il parco non diminuirà la superficie, l'amplia e dove sta già effettuando delle piantumazioni perché non abbiamo lasciato di solito cosa succede prima si fa l'opera, dopo si fanno le compensazioni invece siamo partiti insieme, il 20 luglio siamo partiti col cantiere della vasca e nello stesso tempo siamo partiti e oggi il parco ha già acquisito circa metà delle aree che doveva prendere e in questo inverno ha già piantumato degli alberi perché sappiamo che gli alberi poi non è che crescono così con la barchetta magica che hanno bisogno di tempo e quindi abbiamo preferito iniziare fin da subito a fare questa operazione adesso quindi cosa saranno i prossimi passi soprattutto quando vedremo realizzato la vasca o l'aghetto appunto da che parte lo si guarda e quando è che comincieremo a vedere i frutti di questo lavoro allora questa vasca sarà pronta nell'estate del 2022 funzionante nello stesso tempo dovrebbe essere pronta anche la vasca di Senago in cui c'è un cantiere gemello diciamo che sta andando in parallelo e poi diciamo che nel corso tra marzo e aprile dovrebbero partire i lavori per la vasca di Lentate e le zone di esondazione controllata a nord di Lentate all'altezza di Cantù, Vertemate ricordiamo che Seviso nasce a Como quasi Svizzero nasce a pochissimi metri dal confine dal punto più a sud della Svizzera esatto, vedo che è ben informato e quindi diciamo che noi contiamo che nell'estate 22 a fine 22 sostanzialmente noi avremmo funzionanti la vasca di Senago, la vasca di Milano la vasca di Lentate e le zone golenali a nord quindi mancherà ancora la vasca di Paderno Varedo però ci sarà già un sistema che ha tre vasche una a nord, una a metà e una a bordo Milano che potranno sostanzialmente mettere in sicurezza l'albero del Svizzero come si spiega però allora se sono tutte le polemiche che ci sono state intorno a questo lavoro nel senso che il lavoro è stato lungo si poteva fare meglio? c'è stato qualcosa che non ha funzionato? oppure questi sono i tempi per fare una lavorazione del genere? perché tante polemiche? allora sicuramente tutte le cose si possono fare meglio e imparandosi migliora questo è sicuro diciamo che abbiamo avuto un po' di criticità e opposizioni nel senso che non tutti dico anche legittimamente insomma chiedono spiegazioni sono preoccupati insomma quando si fa un'opera del genere un po' di preoccupazione c'è ed è giusto quindi comprende cioè comprende la preoccupazione dei cittadini la comprende? la comprendo benissimo io ho fatto anche incontri a Bresso abbiamo fatto tanti incontri nel parco abbiamo fatto il processo però è stato fatto un procedimento di valutazione di impatto ambientale cioè ed è giusto che una progettazione di interventi che sono impattanti perché noi diciamo così però insomma se si va sul posto abbiamo anche dei video che abbiamo fatto insomma adesso che si è incominciato a scavare che si è fatto una deviazione provvisuale del servo insomma non è il giochino con la sabbia di camioncini con la paletta e il secchiello ce ne sono tanti mi sa a questo momento esatto esatto quindi capite che è una cosa impattante quindi la progettazione deve essere accurata e si è fatto tre livelli di progettazione ci sono stati dei ricorsi un ricorso alla presidenza del consiglio che ci ha fatto comunque è durato un anno e tre mesi quel percorso lì ed è stato risolto adesso ci sono pendenti alcuni ricorsi però per adesso nessuno con sospensiva e noi stiamo andando avanti certo importante è una cosa che si proceda su tutto cioè noi lo diciamo con forza e su questo hanno ragione i cittadini le vasche sono una parte della risoluzione del problema non dobbiamo limitarci a questo ma dobbiamo andare avanti con la depurazione delle acque e con il principio dell'invarianza cioè noi siamo partiti a dire che tutto questo è nato e lei l'ha spiegato bene con l'immagine del tubo accelerato da una cementificazione di tutto il percorso del Seveso da Milano compreso fino su quasi a Como allora dobbiamo anche lavorare perché nel frattempo mentre diciamo facciamo l'intervento da protezione civile chiamiamolo così delle vasche immediato che ci permette immediato si fa per dire che ci permette di dire che nel fine 22 e 2023 non avremo questo problema ma capisce che se lo guarda con i 45 anni ecco va bene due anni sono compatibili possiamo aspettarli però non basta noi dobbiamo lavorare perché nel frattempo si lavori per depurare la depurazione di un fiume ha dei tempi decennali di 10-20 anni perché non solo si tratta di pulire l'acqua ma poi devi fare in modo che si pulisca tutto il fango che ha depositato si generi nuova vegetazione si incominciano a vedere i pesci cioè ci vuole ci vuole un'azione che continua e poi dobbiamo depavimentare cioè se in questi anni abbiamo cementificato dobbiamo far sì che in tutti i comuni attorno al Seveso si lavori per togliere delle aree di cemento e aumentare delle aree di assorbimento noi lo stiamo facendo a Milano con diverse nostre aree anche una delle aree che diamo al parco è un'area dove c'era un'ex attività industriale che viene e c'è c'è cemento verrà tolto il cemento e fatto ecco queste cose qui dobbiamo fare siccome capite voi che non si fanno da un giorno con l'altro dobbiamo iniziare subito a farlo ecco Assessore nella mia umile posizione do anche un consiglio ditelo più spesso nel senso che è molto interessante quello che sta dicendo è molto interessante sapere che date un'area a un parco e togliete il cemento che c'è per dargli veramente della terra del parco e dell'importanza della terra viva che ha soprattutto una città d'acqua come Milano l'unico consiglio che mi viene da dire da darle è ditelo più spesso nel senso che davvero forse noi cittadini a volte ci perdiamo certi passaggi immagino passaggi anche lunghi complicati a volte anche da descrivere però sarebbe veramente interessante se più spesso venissero momenti come questo in modo da capire ancora meglio perché vengono fatte certe scelte e perché si arriva poi a certe soluzioni che appunto come diceva poi si possono vedere i frutti anche dopo decenni a volte non subito perché insomma è un discorso molto lungo quindi per chiudere mi faccio una promessa quando è che non vedremo più il Seveso e Sondare a Milano? 23 23 va bene me lo segno qui sull'agenda me lo sono segnato certo perché me lo ha chiesto anche il sindaco e ho dovuto firmare col sindaco vi richiamo tutti e due allora al primo generale 23 vi richiamo tutti e due e vi chiedo allora certo ma ci sarà occasione se lei va sul noi abbiamo questo video sul sito che stiamo cercando di aggiornare adesso ci torneremo fra un po' e man mano cerchiamo di informare anche i cittadini su tutto quello che stiamo facendo ha ragione lei e aiutateci anche voi ma so che voi lo fate siete attenti siamo qua a posto assessore grazie mille davvero io spero appunto che chi ci ha ascoltato in tanti quest'oggi siano rimasti contenti o comunque anzi se hanno domande poi magari le gireremo all'assessore manderemo tutti i vari commenti e domande che arrivano qui in redazione io davvero le ringrazio tantissimo buon lavoro e ci si vede allora magari per festeggiare l'apertura delle vasche il prossimo anno a questo punto benissimo grazie grazie mille davvero all'assessore grazie buon lavoro grazie mille buon lavoro andiamo avanti piccolissima pausa in compagnia delle foche parlanti perché poi subito dopo arriva Catrino Rosa perché c'è stato il derby di Milano di calcio femminile e risultato che è stata una sorpresa le foche che cos'è un amore taciuto è più debole se non ha un nome si merita di esistere senza un titolo perché non ho il coraggio di nominarlo forse è negare la salvezza rendermi freddo e crudele perché scelgo di farlo crescere le persone sono così intente a fare scelte che questo impedisce loro di comprendere perché dovrei essere debole e nascondere questo amore che cos'è un amore taciuto nessuno lo saprà mai ma è questo l'amore che dura nel tempo e che in segreto cresce a dismisura grazie mille a Cida Ionaca grazie mille alle foche parlanti come sempre una piccolissima pausa con queste incursioni poetiche all'interno della trasmissione ma andiamo subito avanti velocemente si parla di calcio calcio femminile quindi abbiamo in collegamento Mattia Del Giudice di Cartellino Rosa per parlarci appunto del weekend appena passato che è stato weekend di Coppa Italia proprio così ciao Fabio buongiorno a tutti buongiorno Mattia ci sono state le gare d'andate delle semifinali di Coppa Italia femminile da una parte il risultato che ci interessa un po' meno ma comunque abbastanza eclatante la vittoria della Roma sulla Juventus per 2 a 1 perde la Juve ma se perde la Juve il Milan potrebbe quasi festeggiare insomma in chiave così con gli Ardica non festeggia il Milan perché? perché ha perso il derby contro l'Inter la prima volta nella storia in cui il Milan femminile perde il derby con le cugine nero azzurre infatti arriva una vittoria per 2 a 1 delle ragazze di Sorbi meritata nulla da dire le nero azzurre si sono messe molto bene in campo hanno giocato molto bene sono andate in vantaggio tra l'altro in 10 minuti circa sul 2 a 0 prima c'è stato un rigore con Rincon che tra l'altro se lo fa parare da cuore in ciova ma sulla ribattuta la solita Gloria Marinelli si avventa sulla palla e si è il gol di vantaggio al quarto minuto invece al decimo minuto circa arriva il gol di Caroline Moller Hansen un tiro che non lascia scampo al portiere avversario raddoppio 2 a 0 è partita che si mette in discesa per le nero azzurre che però subiscono un gol pochi minuti dopo da Capitan Giacinti servita benissimo da Caroline Rask quindi accorcia distanze e tiene viva comunque la speranza la speranza rossonera per la gara di ritorno gara di ritorno che sarà a aprile quindi ormai c'è un po' più di verso fine aprile anzi mi dicevi giusto Mattia quindi sarà un po' di pausa ma storica vittoria prima volta che le ragazze dell'Inter vincono sul Milan giusto dicevi esattamente in precedenza erano arrivate solo sconfitte neanche pareggi il Milan si era sempre dimostrato la squadra superiore comunque con un anno di vantaggio in serie A sulle cugine questa volta però l'Inter ha fatto una partita molto attenta aveva già eliminato la Fiorentina che già lì era favorita nello scorso turno e adesso chissà magari riuscirà a conquistare una storica finale che però neanche il Milan ha mai raggiunto finora quindi proprio sarà un super derby di meneghino a fin aprile per la conquista di questa finale che magari potrebbe vedere l'assenza anche dalla Juventus dopo tanti anni vista la sconfitta all'andata contro la Roma Juventus che però si sta impegnando e tiene botta in campionato giusto perché insomma vediamo la classifica proprio così perché dopo la vittoria contro il Milan di settimana scorsa Roboante con un 4-0 netto la Juventus è portata a 6 punti di vantaggio che come se fosse Rossetti vista appunto lo sconto diretto a favore il Milan quindi ora tanto che sullo scudetto deve concentrarsi sul confermare il secondo posto valido per la Champions League essendo che il Sassuolo insegue a meno 5 quindi sta lì dietro pronto Ecco Mattia ti faccio un po' le domande che noi seguiamo il calcio femminile ormai da quasi l'inizio di questa stagione però appunto ci sono certe cose che vengono fuori man mano il racconto va avanti il campionato va avanti Champions League che il Milan ha già fatto altre volte non ha mai fatto com'è il rapporto tra le milanesi la Champions League femminile Allora l'Inter quando è nata è partito dalla Serie B dove ha dominato e vinto il campionato il Milan invece è ormai questo il suo terzo anno ma nelle scorse due stagioni è sempre arrivata terza quindi ha un soffio dalla Champions infatti ci vanno solo le prime due per quanto riguarda la Serie A l'anno scorso pensa che non c'è riuscita ad andarci per via della differenza reti che ha premiato invece la Fiorentina Ah ok quindi però forte di questa classifica ci avviciniamo invece ci ha le prossime partite inizia sabato l'Inter giusto? esattamente perché l'Inter avrà una gara difficilissima dopo il derby con il Milan dovrà affrontare la Roma in trasferta all'andata riuscì a strappare un pareggio d'oro un 1-1 combattutissimo ora però la Roma è un'altra squadra ha ripreso fiducia in se stessa sta tenendo tantissimi risultati consecutivi tra cui appunto l'ultimo di cui abbiamo parlato la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia quindi sarà una gara molto difficile per le nere azzurre di Sorbi che con una salvezza ormai raggiunta possono comunque giocare con tanta tranquillità Milan invece che gioca in casa al Vismara giusto? esattamente domenica affronterà l'Empoli una gara non semplice anche se l'andata ci fa una vittoria per tre riti a zero quindi abbastanza netta tra l'altro forse una delle migliori prestazioni delle rossonere quest'anno l'Empoli però è una squadra strana perché è in grado di mettere ha messo in difficoltà spesso e volentieri perfino la Juventus quindi sarà una partita assolutamente da non sottovalutare anche perché l'anno scorso l'Empoli riuscì a vincere in casa del Milan per due a uno e fu la prima sconfitta del rossonere in casa insomma e non arriva da una serie positiva al Milan quindi sarà stare molto molto attenti Mattia io ti ringrazio ricordaci dove possiamo trovare però tutto quello che serve da sapere sul calcio femminile grazie a Cattelino Rosa siamo davvero ovunque su Instagram su Facebook su Telegram su Youtube ci trovate davvero in qualsiasi canale social tra l'altro oggi essendo lunedì è uscito pure il gazzettino online di Cattelino Rosa che si può scaricare gratuitamente dal nostro sito perfetto allora Mattia ti ringrazio tantissimo ti do appuntamento a lunedì prossimo ricordiamo tutti i lunedì Cattelino Rosa è in collegamento con noi per raccontarci il weekend del calcio femminile e potete comunque appunto come diceva Mattia seguire tutto ciò che è calcio femminile su Cattelino Rosa su Instagram su Facebook su il sito internet il lunedì con il gazzettino che esce quindi davvero Mattia complimenti buon lavoro a te a tutta la squadra di Cattelino Rosa grazie a te Fabio buona giornata a tutti grazie mille buona giornata a te io ringrazio anche voi che ci avete seguito quest'oggi numerosissimi nella nostra puntata di oggi lunedì 15 marzo vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social Instagram Facebook ma anche il nostro sito internet milano allnews.it e milano news.it anche le storie di Milano News potete seguire tutte le varie storie di maccherazza di umani e anche i nuovissimi articoli long form con cui vi raccontiamo la nostra città uscito settimana scorsa ma è attivissimo potete ancora vederlo in home page in queste settimane il nostro articolo su viva San Si l'abbiamo intitolato cioè su tutto ciò che è lo stadio di San Si e quali potrebbero essere gli scenari futuri o futuribili tutto questo è Milano News mi raccomando seguiteci scriveteci attivate le notifiche mettete like in modo da essere sempre collegati con noi noi torniamo domani sera martedì alle 19.30 con una nuova puntata di Municipio X in compagnia di Francesca Cutrone e poi mercoledì invece ancora qua in mia compagnia con una nuova puntata di Good Morning Milano ma per qualsiasi cosa appunto potete scriverci anche direttamente qui sotto a questa diretta grazie mille arrivederci e a presto grazie a tutti